Musica Musica Contatto visivo No, lasciamo stare Spostarsi in questo punto Attività nemica Capole nemiche identificate Non finirà mai Padre Benvenuti nel Gulag Chi sopravvive conquista la libertà Scontro iniziato Il prossimo sei tu Preparati Se vinci questo scontro Torni in prima linea Se perdi è finita Tocca a te soldato Occupati di quello stronzo A riparo C'è del lavoro da fare No L'hai fatto a pezzo Preparati a rientrare in azione Compagno inviato nel Gulag Combatterà per tornare in azione Cassa di scorte in situata La voglio in sicurezza Il compagno Il compagno ritorna in azione Attendi State perdendo terreno Obiettivi aggiornati Passare alla prossima area Contratto aggiornato Nuovo obiettivo identificato Tutte le casse in scorte trovate Ottimo lavoro Siamo tutti nella zona sicura Coordinate definite Guido io Non importa Quel posto è mio Avete un lancio di equipaggiamento in arrivo Corazza marcata Allacciate le cinture Guido io Quel posto è mio Quattro è mio Quattro è mio Il nemico in volo Mi attaccano Mi attaccano Punto di raduno di avviso Punto di raduno di avviso Quattro è mio Quattro è mio Tenere Un nemico in volo Un nemico Un nemico in volo Olendiamo Alle Mai esa In Alle lancio d'equipaggiamento alleato in arrivo visuale sul bersaglio in arrivo nuova zona sicura contrassegnata a Sì, sì. Sì, sì. Arriva il gas! Allacciate le cinture, guido in. Rfg in arrivo! Cazzo, dove si va? L'attività nemica! Allacciate le cinture! Visuale sul bersaglio! Destinazione... Allacciate le cinture! Allacciate le cinture! Andati! Tu avvi nemico in volo! Il nemico ha perso le vostre trecce! Siete al sicuro! Il nemico ha perso le vostre trecce! Un nemico in volo! Gassi in arrivo! Zona sicura riposizionata! Lecchiamoci laggiù! UAV nemico in volo! WAP nemico in volo! Versaglio taglia disponibile! Diamoci da fare! Contatto visivo! Contatto visivo! FURA! L'KAF è stato in giro! ARRIVA IL GAS! FURA! FURA! Bobbi! FURA! 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 SMURA! FURA! FURA! Némico! Ignorare! Némico! Némico in volo! Sono sotto attacco! Némico in volo! Némico in volo! Némico in volo! Ostile in discesa nell'area! Occhio in alto! Tempo scaduto! Obiettivo fallito! UAV nemico in volo! Vesuale sul bersaglio! Gas in movimento! Nuova zona sicura individuata! UAV nemico in volo! UAV alleato in sorbolo! Avvio scansione radar! Avete del gas in arrivo! Destinazione marcata! Muoversi! Ignorare! Siamo tutti nella zona sicura! Mico armato! Emh! Làiz comprehensive! colpite il mio bersaglio mi stanno massacrando datti in arrivo alla nuova zona sicura riferimento finale in preparazione datti da fare alla svelta arriva un lancio d'equipaggiamento contatto visivo dirigersi in questo punto non importa avete del gas in arrivo dobbiamo raggiungere la zona sicura punto di raduno definito mi stanno massacrando gas in arrivo alla nuova zona sicura mi stanno massacrando mi stanno massacrando ne restano solo dieci qui Grazie per la visione!